Sessualità, manette, però così non si fa Liason, promesse di sesso ed attività Lubriche, che non sono mica facili Almeno per noi due Disturbati e sardonici Fan dell'umanità a noi Toronto, Belize o Capo Verde Mette da vacanze inutili Che chiamerai a te, ma Vacanze da Iolabile Da alta società Sedile ribaltabile Da mattatoio a Un onesto compromesso Il pretesto ad hoc per un viaggetto Che dici? Ci stai? Che dici? Charmo il Paraguay Sessualità Di molte tristi sagome Che fanno un po' pietà E poi Da che parte stavi Dotti fuoco